Allora ragazzi benvenuti a tutti lunedì 11 novembre post Roma Bologna post esonero di Ivan Juric che è un esonero che si commenta anche da solo nel senso che è un allenatore che da quando è arrivato alla Roma non ci ha capito assolutamente niente quindi la colpa è soltanto quella di aver insistito con portare avanti una situazione che non stava assolutamente in piedi. Ho avuto anche la sensazione che alcuni giocatori abbiano alzato il piede dall'acceleratore per favorire diciamo l'uscita di questo allenatore che ad alcuni piaceva ad altri non piaceva lui sicuramente in questa gestione ha fatto un gran casino pensavo che fosse più esperto diciamo ecco forse qualche buon risultato conseguito diciamo tra virgolette in provincia con giocatori che lui ha potuto preparare fin dall'estate anche a livello atletico ha un po' alterato il giudizio che noi avevamo su Ivan Juric che non è assolutamente un allenatore che può allenare una squadra che aspira ad entrare diciamo fra le 4-5-6 prime 4-5-6 in classifica è un allenatore per squadre che si devono salvare questa è la realtà quindi errore proprio totale quello di affidarsi a lui per una Roma ambiziosa però io vorrei anche puntare l'indice accusatorio sul vero responsabile secondo me di tutta questa situazione che si chiama Florin Ghisolfi che ha sbagliato completamente la campagna acquisti estiva ha fatto tra l'altro spendere una barca di soldi per prendere giocatori che a mala pena vanno in campo lui è sicuramente il primo nome che dovrebbe saltare dovrebbe saltare insieme a Juric perché non è pensabile affidarsi a Ghisolfi per fare il calciomercato di gennaio che sarà un calciomercato importantissimo forse il più importante calciomercato invernale degli ultimi 10 anni 15 anni perché altrimenti si recupereremo anche qualche giocatore come se le mega ma con questa rosa qua ovviamente deve incontro all'uscita dall'europa league è impensabile anche vincere una coppa italia con una squadra del genere non parliamo poi del campionato dove comunque sappiamo che poi alla fine in Serie B non ci vai però non è che arrivare quinto ultimo sest'ultimo possa essere un risultato che possiamo accettare come tifosi visto che qua tutti parlavano di qualificazione in Champions League ma a me sembra che sia dal 2019 che si parla dell'importanza di ritrovare di ritornare in Champions qua non si riesce a centrare proprio gli obiettivi minimi che vengono fissati quindi è chiaro che c'è un evidente incompetenza qui siamo di fronte all'incompetenza i nomi che girano sono i più vari sembra che loro si affidano a questa agenzia che praticamente come già tante volte ho detto fa tutte delle analisi a livello di logaritmi algoritmi algoritmi queste cose qua e da quello che a me arriva ma ormai prendo tutto col beneficio dell'inventario perché c'è una confusione enorme questa questi questi studi con gli algoritmi nei quali non credo assolutamente avrebbero partorito il nome di Edin Terzic del Borussia Dortmund come il nome più gradito questo è quello che mi arriva ma io non credo a questi studi per un semplice fatto che cioè se noi per esempio andiamo a esaminare la media punti che fa un allenatore rispetto ad un altro anche a parità di numero di partite facciamo un ipotesi uno su 50 partite ha fatto due punti a partita un altro su 50 partite ha fatto 1,4 punti a partita allora uno dice beh allora quello che ha fatto i due è più bravo ma invece no perché tu in queste 50 partite con chi hai giocato cosa è successo in queste partite ci sono anche risultati che vengono alterati dagli arbitri dagli infortuni dalle espulsioni dalle squalifiche capito quindi uno deve invece vedersi tutte le partite di un allenatore di una squadra per capire tante cose di questo di quello che quell'allenatore vede o non vede bisogna vederle le partite non è sufficiente esaminare i risultati eccetera eccetera perché io per esempio ieri sono rimasto molto colpito nell'azione della mi ricordo più se era quella della quando si infortuna andoi pare che fosse quella l'azione comunque insomma quando orsolini marcato da angelino si libera da angelino e parte dritto per dritto in velocità mi pare che si è girato se mi ricordo bene raga orsolini è veloce ma angelino è rimasto fermo cioè non era in grado di contrastare sul piano della corsa orsolini guardate che è impressionante lui in due metri gliene prende quattro e va si invola poi mi pare che ha tirato fuori c'è stato mi pare di ricordare che sia l'azione di dell'infortunio di indoi ma quello ragazzi è un esterno che teoricamente è un esterno anche difensivo non è che basta andare avanti attaccare per un bel piede devi anche coprire rientrare lui è stato messo in mutande in quest'azione da orsolini quindi andarmela rivedere perché è inquietante quindi ragazzi cioè qua la situazione è gravissima ma non solo per i juric qui chiunque viene deve fare i conti con giocatori che sono in difficoltà a contrastare se saltano di testa come appunto lo stesso angelino sono in difficoltà sono in confusione atleticamente sono inferiori cioè io ormai vedo giocatori che sono inferiori fisicamente proprio noi siamo inferiori tecnicamente fisicamente ad altre squadre e basta guardare la classifica per averne la conferma ragazzi ma stanno tutti a 25 24 ci sono 7 squadre noi siamo a 13 punti in croce con due partite davanti a noi proibitive Napoli e Atalanta sono due squadre in questo momento difficilissime da affrontare soprattutto poi Napoli in casa ma l'Atalanta è una squadra ormai che nessuno vorrebbe incontrare né in casa né in trasferta che viene anche da diverse vittorie consecutive che ha vinto anche a Napoli 3 a 0 è chiaro che sarà un'altra partita molto complicata quindi con questo gruppo di giocatori chiaro che bisogna intervenire assolutamente cioè cambiare la squadra perché questa squadra affonda ma è già affondata è stato dimostrato ampiamente quello che io dicevo che non si può giocare con Celic, Saleschi, Crissante e Pellegrini Crissante mi sembra che anche ieri abbia disputato una partita ampiamente insufficiente non parliamo poi della partita di Celic che è una specie di mistero della fede da parte di Yu cioè avere insistito su Celic significa non poter fare l'allenatore di serie A secondo me purtroppo tu non puoi giuricare il giocatore solo dalle caratteristiche umane dalla serietà, dalla professionalità, dall'attaccamento, dalla lealtà lui è uno integralista, questo Juric che vuole tutta gente che dice signor sì, colonnello, come dice lei subito obbedisco agli ordini se uno come uno solleva delle perplessità lo manda in tribuna però dopo il giocatore che fa signor sì eccetera eccetera che sta sempre a disposizione, serio posizionista se non sta a stoppare la palla quando gli passano la palla non la sta a stoppare se non sta a marcare non sta a marcare, se non sta a crossare non sta a crossare quindi non vedere questo è mala fede cioè tu difendi un giocatore solo per motivi extracalcistici uno veramente proprio quello che io penso che sia inaccettabile di Juric tra i tantissimi errori anche di comunicazione che ha fatto e sarà proprio quello di non aver mai voluto capire che non si può giocare pallone con Zeki Celic in una squadra che abbia qualche ambizione cioè Zeki Celic va bene forse per il Cagliari forse per il... non sono nemmeno convinto che abbia le caratteristiche per giocare con il Venezia che comunque di Francesco c'è un gioco di costruzione ambizioso in velocità, forse non va bene manco per il Venezia quindi cerchiamo di capire cose semplici che tra l'altro io ho sempre detto i Frickin non sono capaci di gestire la Roma lo dimostrano i risultati degli ultimi campionati se ne devono andare, devono vendere la società a un altro gruppo non solo ricco perché i Frickin i soldi ce l'hanno e come ma che abbia più esperienza anche del settore calcio che sappiano organizzarsi meglio eccetera eccetera e scegliere soprattutto i collaboratori per fare questo capiamo che non ci vuole né una settimana, né anche 15 giorni, né anche un mese io comincio a dirlo, mi porto avanti col lavoro già da tempo predico uno stadio deserto proprio per convincerli a andarsene perché secondo me questa è gente che va colpita nel portafoglio allora delle contestazioni non ne frega niente ragazzi ed ho anche un altro sospetto tra l'altro ci stavo pensando proprio questa mattina che mi sono svegliato tra l'altro pensando ma ieri ha giocato la Roma o me lo so sognato? cioè ma Roma-Bologna non è vero me lo so sognato era un incubo ma non ha giocato la Roma poi nel dormiveglia poi mi svegliavo cazzo no è vero ho fatto il video ha giocato la Roma ha perso col Bologna in casa cioè fai fatica anche a tendi a rimuovere determinare cose perché veramente io penso che siamo tutti allibiti di fronte a quello che stiamo vedendo nell'ultimo mese io ho anche il sospetto che questa assenza dei fricchi per 53 giorni da Roma nasconda invece non solo il disimpegno perché loro a parole dicono vogliono rimanere vogliono vincere destra e sinistra ma io il sospetto proprio che gli abbiano detto perché invece vi fate in questo periodo vi fate in giretta all'estero che tira brutta aria perché qua l'ambiente la gente è inferocita Roma c'è un po' una tifosieria anche abbastanza calda non vorrei che non vi dimenticate che anche la Soloku è stata minacciata è uno dei motivi che ufficialmente l'hanno spinta a dimettersi ma in realtà sono stati anche i fricchi che gli hanno detto di andassene loro gli hanno detto guarda noi ti cacciamo salva la faccia ti dimetti tu con la scuda delle minacce così è stato perché hanno capito che lei aveva sbagliato a prendere Iuri e gli hanno scaricato tutta la colpa addosso a lei perché lei praticamente ha detto De Rossi non lo vogliono più i giocatori appeto io allora loro l'hanno preso per buono non capendo una marcia di niente quando hanno capito che la tifoseria si era rivoltata contro questa decisione se la sono presa giustamente con la Soloku io ho il sospetto che loro forse qualche minaccia l'hanno anche ricevuta perché 53 giorni 54 sono tanti eh sono molti l'impressione abbiamo detto aspettate che si calmino un po' le acque perché c'è una brutta situazione la vedo così perché una cosa è non andare allo stadio a non prendere fischi contestazioni i pernacchi e sbelleffi e quanto la cosa è non essere a Roma per quasi due mesi due mesi è un periodo lunghissimo per gente che gestisce una società di calcio ogni tanto si deve anche far vedere no è venuto anche questo dubbio quindi io non pretendo che i fricchi in un'ora vendano la Roma anche perché se ci hanno messo settimane per capire che bisognava esonerare a Juric figuriamoci però Chisolfi me lo devi cacciare pure lui Chisolfi è corresponsabile tutta questa situazione insieme agli allenatori non non ha meno colpe di Juric Chisolfi è vero che va tutto storto ogni palla deviata finisce in qualche modo alle spalle di Svilar spali traverse errori a bit tutto quello che volete ma comunque la squadra ha una difesa di burro gioca male non è non si impegna abbastanza non corre abbastanza tecnicamente si vedono cose improponibili cioè sono anche i giocatori che sono scarsi che hanno creato questa situazione per colpa di questo Chisolfi che ha sbagliato praticamente quasi tutto forse ecco l'unico che ha indovinato veramente è stato Coné che è un buon giocatore tutto il resto anche lo stesso Dobby che ieri ha giocato una partita pessima speriamo causata da problemi fisici ma tutto il resto è da buttare perché è vero che Juric non si è in Caponita non fa giocare Hummels perché evidentemente c'è stato qualcosa fra di loro però è anche vero che comunque i Dalig gli Abduramid i Sangaré sono stati presi da Chisolfi quindi il primo responsabile che deve essere cacciato è Chisolfi che tra l'altro ieri si presenta a parlare ai microfoni di Dazzon in francese con la gente che gli traduce ma io dico ma tu sei un professionista cioè io ho capito che non è una cima Chisolfi questo l'ho capito però tu sei un professionista che prende una barca di soldi per fare quel tipo di lavoro dove tu sai che comunque devi parlare con la stampa con i tifoti ma ti puoi presentare dopo mesi che ancora non parli una parola di italiano ma fa fatica pure a dire la parola Roma in italiano ho sentito ma è inaccettabile ma tu ti prendi un ruolo del genere la prima cosa che devi fare la prima il giorno dopo un insegnante di italiano H24 vicino a te che ogni cosa che vedi ti dice questo si chiama volante questa si chiama automobile questo si chiama scarpa ogni cosa ti fa il lavaggio del cervello su tutte le parole e piano piano ti insegna anche la grammatica in modo che tu se non altro puoi dire due parole ma non è io capisco che c'è un mondo globalizzato è tutto quello che volete ma è una cosa ridicola questa è una cosa ridicola perché state tranquilli che Mourinho o altri quando vanno a allenare all'estero magari in Turchia parlerà l'inglese perché il tucco capisco che è una lingua molto complicata ma state tranquilli che Mourinho non va nei campionati esteri a parlare mi sembra che quando è venuto in Italia anche all'Inter ha cominciato subito a parlare più o meno bene in italiano devi fare anche uno sforzo che è una cosa simbolica psicologica è un accorciare le distanze tra te e i tifosi tra la società e i tifosi tu arrivi là già mi parli in francese ma io per un mese ti sopporto ma questo cazzo è da sestate che sta a Roma ma è possibile che non ha imparato una parola e già questo è un sintomo di poca protezionalità e Ghisolfi parte questo che è un dettaglio rispetto alle cavolate che ha fatto in calcio mancato deve essere cacciato cioè lui deve essere cacciato l'allenatore l'abbiamo cacciato poi ci serve un CEO che pare che sia Carnevali Giovanni Carnevali e Sartori oppure Sartori un CEO mettiamolo italiano visto che sono tutti stranieri qualche italiano mettiamocelo prendiamo questo CEO ma non basta neanche poi ci vuole l'allenatore che deve essere azzeccato gli serve un CEO un direttore sportivo e un allenatore questi sono i primi tre su cui lavorare poi si valuta anche eventualmente un direttore tecnico qualcosa del genere qualcuno che parla con la stampa bisogna ragionarci sopra oggi serve questo prima cosa nuovo allenatore subito dopo si caccia chiudo il fi o anche contestualmente perché serve un nuovo gruppo di lavoro per programmare gennaio noi a gennaio dobbiamo prendere terzino destro terzino sinistro un vice dobbic un esterno quello che vi pare un altro difensore centrale si valuta un altro centrocampista si valuta non pretendo otto giocatori nuovi però quattro li voglio sicuramente terzino terzo terzino sinistro di sicuro forse sugli esterni ce la possiamo cavare con el sharawi e se le mecca poi bisogna valutare insomma ma chiaro che così non si può andare avanti poi serve il ceo queste sono le prime cose da fare e poi se bisogna dare una se deve arrivare un allenatore devi dare una grossa scossa all'ambiente perché noi dobbiamo capire che bisogna fare punti ragazzi noi se perdiamo con Napoli-Atalanta non siamo ultimi siamo penultimi insomma trovarmi alla quattordicesima alla vigilia della quindicesima del campionato al penultimo posto al terzo ultimo posto per una società che diceva che voleva vincere voleva andare in Champions eccetera è un super fallimento è un super fallimento quindi questo momento chiunque venga capisca che deve cambiare la squadra deve rischiare anche i giovani bisogna rischiare Pisilli per esempio ieri non ha giocato una buona partita ma non importa è un ragazzo lui più gioca più esce fuori il giocatore come adesso prepotentemente sta uscendo fuori Bovena la Fiorentina perché lui è chiaro che più gioca con continuità è giovane migliora l'esperienza l'autostima quello e quell'altro esce fuori quindi Pisilli non me lo devi rimettere in panchina perché se no lui entra in una dimensione psicologica non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta lui deve giocare 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 e anche su lei purtroppo dovrebbe giocare anche di più è solo che purtroppo non riesce a fare le cose che deve fare perché è troppo innamorato del pallone e allora quello è un caso diverso perché diventa dannoso per la squadra però bisogna adesso rischiare sui giovani perché i giocatori che noi abbiamo sono questi bisogna inserire Hummels sicuramente anche perché adesso la difesa balla in una maniera tale che serve anche carisma e personalità prima cosa Hummels al centro della difesa Celic in panchina subito e rischiare di giovane rischiare Abdulhamid dal Sangaré ha 17 anni è veramente giovane però io nel precampionato non l'ho visto male secondo me 10 minuti in alcune partite si potrebbe anche fare per fare un po' d'esperienza altri giocatori vedere cosa si può fare ma noi dobbiamo lasciare in panchina Celic Zaleski Pellegrini e Cristante non riusciamo a capire questo lasciare in panchina almeno 3 di questi 4 in ogni partita già facciamo un passo avanti ragazzi perché ieri se noi non avessimo schierato Celic e Cristante in questa partita dall'inizio già le cose sarebbero andate meglio comunque vediamo adesso innanzitutto quale sarà il nuovo allenatore si fanno tanti nomi in Pol c'è Roberto Mancini e Roberto Mancini vuole un contratto fino al 2027 pare che voglia 4,5 milioni a stagione ma non è quello il problema il problema è proprio il progetto tecnico se se la sente di venire a prendere questa patata bollente è chiaro che il nuovo allenatore c'è il pericolo anche che arriva va a Napoli e perde 3 a 0 questa squadra io questo ve lo dico e poi perde anche col Tottenham e perde anche con l'Atalanta il momento è questo qui per come si muovono in campo i giocatori per come corrono e tutto quanto per l'insicurezza che dimostrano il nervosismo che dimostrano è tosta per questo che io predico Ranieri perché Ranieri è quello che con la sua esperienza e le sue capacità è quello che in brevissimo tempo è in grado di dare comunque una sistemata certamente anche lui non può fare miracoli se le passero dalla testa quest'anno di rimontare di andare nelle coppe perché è chiaro che questa squadra qua non ce l'ha da nessuna parte ragazzi speriamo bene e ci rivediamo per commentare il nome del nuovo tecnico buona giornata a tutti